Cresce l'attesa in città per il ritorno, dopo 16 anni, della tradizionale festa dei quattro altari. Questa mattina nella sala consigliare di Palazzo Baronale la conferenza stampa di presentazione del programma degli eventi, che animeranno la città di Torre del Greco dal 19 al 21 luglio. Corpus, identità, tradizione, riscatto, i temi salienti che racchiudono l'essenza della festa. 19 spettacoli, 200 artisti coinvolti, mostri, convegni, esposizioni e tanto altro. Soddisfatto ed emozionato il sindaco Luigi Mennella. È stato scritto nel programma elettorale, la gente mi ha votata anche per questo, la città ci tiene, ha bisogno comunque di organizzare nel proprio DNA, come dire, la tradizione e la festa delle contattate rispecchia esattamente questa cosa. La festa servirà per dare un'immagine ancora di più esterna della nostra città, stiamo avendo tante telefonate, ci stanno chiamando per sapere quali sono le date, perché verranno persone da tutte le parti d'Italia. Un volano per il rilancio della città? Assolutamente sì, questo è uno dei volani, insieme stiamo facendo un percorso e insomma vogliamo che la nostra città, come mi piace sempre dire, oltre che essere al centro del Golfo di Napoli, che già è una cosa spettacolare, ovviamente potrebbe essere anche al centro, essendo la città più grande e noi siamo anche un po' ambiziosi di porla al centro della regione campania. Che significa per la città di Torre del Greco e per i torresi la festa dei quattro altar? Ma credo che significa tanto, io per quanto mi riguarda come da ragazzino adesso è stato sempre nel primo punto d'orgoglio, quando ne parlavo mi ricordo con i vari amici, insomma di villeggiatura, come si diceva prima, orgogliosamente dicevamo a noi a Torre del Greco teniamo la festa dei quattro altar e magari lo dicevamo a quelli che oggi hanno la festa dei gigi di nole, che è anche una bellissima festa. Cresce dunque l'attesa e anche l'emozione? Guardi, le posso dire una cosa, io mi sono emozionato quando ho visto mettere i primi palli per le luminarie, è una cosa che mi mancava e adesso mi riporta ai ricordi, ai miei nonni, alla famiglia, ai tanti torresi e questo veramente mi ha emozionato tantissimo. Un recupero nel solco della tradizione e all'insegna del rilancio per promuovere e valorizzare il territorio oltre i confini locali. Un programma ricco ed articolato a cura del direttore artistico Gigi Di Luca. Una festa che è un festival, festa festival, mi piace ribattezzarlo, con circa 19 spettacoli, 200 artisti, mostre, convegni, omaggi, esposizioni d'arte, murales, una festa del genere credo che non si fosse mai immaginata possibile l'attore del greco. Quindi rimane tutta la struttura della festa dei quattro altari, con gli altari, con i tappeti, ma anche l'apertura ai giovani, anche ai giovani artisti, attraverso Morales che realizzerà l'Accadema delle Belle Arti di Napoli e attraverso format musicali dedicati agli artisti locali. Quindi dunque c'è il rispetto della tradizione ma nel segno dell'innovazione e del rilancio? Assolutamente, recupero e rilancio perché non si può rilanciare se non si recupera bene e non si può recuperare bene senza un rilancio. Chi sono gli artisti che hanno realizzato altari e tappeti? Alcuni storici come Filippo Romito, poi c'è Francesco Scognamiglio, anche lui altarista, ne ha fatti alcuni, Antonino Amendola e Alfonso Raiola che è stato per anni collaboratore anche di Raffaele De Maio. Poi i tappeti, anche i soliti, i quattro più o meno storici, tre storici più un artista nuovo che si è lavorato. Tutti hanno rispettato il tema che è stato dato, sono stati sensibili anche a capire di apportare alcune modifiche che la Commissione gli ha chiesto. Ricordiamo anche le date, dal 19 al 21 luglio, tre giorni di grande festa in città. Da oggi al 19 luglio la festa già c'è. La festa, come ho detto nella presentazione, è anche l'attesa. L'attesa della festa è già festa, perciò tanto clamore, anche tanto rumore, tanto entusiasmo che ci accompagnerà. Perché è un momento importante, socialmente parlando, non solo artisticamente, socialmente perché si recupera qualcosa di cui tutti quanti noi sentivamo il bisogno. Gli eventi come sono organizzati? Principalmente sarà protagonista il centro cittadino? Sì, sarà protagonista il centro cittadino, non per escludere la periferia, ma perché devono essere eventi che partono dalle 18 e terminano alle 24. Ogni giorno ci sono circa 6 eventi e quindi hanno una scansione temporale abbastanza vicina, per cui l'invito è alla cittadinanza di seguirli, di spostarsi da un luogo all'altro. Per chi non è editore del Greco, perché venire a vedere la festa dei quattro altari? Ma innanzitutto per gli altari, i tappeti, perché è un unicum, chiaramente, perché voglio dire di feste, concerti, altro li troviamo altrove. Dopodiché perché è una festa coordinata, pensata, con la direzione artista che ha voluto mettere in luce qualsiasi aspetto potesse legarci alla festa di valorizzazione locale e anche invece di internazionalizzazione della festa, di sviluppo, di commercio, venire a Toro del Greco significa venire a vedere qualcosa di particolare.